è la busta più importante possono entrare i cinque finalisti vi chiedo, lo so che sono le due e mezza ma vi chiedo un applauso fortissimo per cinque grandissimi artisti che vi vogliono qui vi vogliono qui tutti e cinque vi vogliono Taranai, Lazza, Ultimo Mister Rain, Marco Mengoni qui al centro mettetevi l'applauso fortissimo una cinquina incredibile devo dire, cinque canzoni bellissime ok, e adesso ci siamo già questa è una fotografia indimenticabile vedete dopo una settimana di musica e devo dire di suspense di gioia, di festa e di grande impegno questa è la classifica finale del 73esimo Festival di San Re al quinto posto si classifica Tananai rimani qua, rimani qua, rimani qua ma dove vai? rimani qua, al quarto posto si classifica ultimo al terzo posto al 73esimo Festival della canzone italiana si classifica mister Rain venite venite, fate Lazza e Marco venite qui ragazzi venite al centro dobbiamo proclamare il vincitore vedi al centro Lazza e Marco Mengoni attenzione urliamo insieme il nome io vi mostro la busta vince la 73esima edizione del Festival di Sanremo Marco Mengoni grazie a tutti Lazza Lazza Ehi! Congratulazioni! Congratulazioni! Marco Mengoni! Grazie! È stato bello! Un grande pezzo! Congratulazioni! Bene, bravo! Sì, sì, sì! Sindaco, sindaco di Sanremo, Alberto Bianchieri, attenti a non scivolare! Ma non è scemo! Consegna il premio, il leone d'oro! Eccolo! Eccolo, il leone d'oro! Beh, devo dire, è una grande gara e un grande festival con grandi artisti! E adesso teniamo il premio e lo mettiamo qui. Intanto questo te la regalo la busta. Ah, scusate, per verifica, io lo faccio sempre, scritto a pennarello. Questa, ecco, così è una verifica di quanto ho letto. Eccola qua! Perfetto, così. Allora, il premio lo mettiamo qui. Qua, 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 qua davanti, qua davanti perché devono fotografarlo. Diamo il microfono a Marco. Ecco. Diamo pure il microfono a Marco. Grazie. Attento Marco a non scivolare perché si scivola molto. Si scivola tantissimo. Io non ho il body. Ok, adesso arriva tutto, arriva tutto. Ah, ok. La cantiamo? Posso dire una cosa sola? Sì, sì. Volevo dedicare anche questo premio a tutte le donne che hanno partecipato e sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati in cinque ragazzi e quindi, cioè, credevo fosse giusto, ecco, dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi su questo palco. e vi ringrazio tantissimo. Adesso ci organizziamo per far cantare Marco. Venite se dovete... Ah, ok, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo un attimo e poi canta Marco Mengoni, Due vite, la canzone vincitrice di Sanremo 2023. Grazie a tutti.